Ciao a tutti e bentornati sul canale Ciccetti2. Inizio ringraziandovi per i 100 iscritti. Per festeggiare questo primo traguardo ho deciso di pubblicare un video con le nuove Valkyrie al 5. Bene, da ieri ho Valkyrie a livello 5 e sto sperimentando qualche attacco. Non cerco attacchi particolarmente difficili, ma devo dire che gli attacchi con le Valkyrie al 5 sono veramente spettacolari, ma molto spettacolari. Come vedete, in World Attack, per iniziare, si pulisce un po', io utilizzo anche 8 giganti insieme alle 10 Valkyrie, una gelo, le furie, i miei eroi, e devo dire che mi sta dando delle ottime soddisfazioni, non vedo di poterle provare anche in War. Un altro attacco, anche in questo caso un municipio livello 11, anzi senza addirittura l'artiglieria dell'Aquila. Altra disposizione, sempre si parte con la Regina, in base a dove gira la Regina poi si decide dove entrare con le Valkyrie e i Giganti. E devo dire, fino a prima di avere le Valkyrie a livello 5, 3 stelle non le avrei fatte. Taccolari queste Valkyrie al 5? Bene, non vedo l'ora di utilizzarle in War. Ringraziandovi nuovamente per i 100 iscritti, vi ricordo di iscrivervi per rimanere aggiornati, lasciare like e commenti. Ciao e alla prossima!